il mio nome è dennis salve ragazzi boss fight chi sei tu il vostro peggiore incubo un grosso piatto di broccoli sono dennis ingaggiato per uccidervi ascolta amico non vorrei rovinarti la testa ma stai parlando con due uomini veri qui non abbiamo tempo per queste sciocchezze quindi se vuoi farti da fare fa vedere se vi costruiscono i basi crescono i baffi ma cosa sta facendo ma perché gli scontri ah cavolo fa anche effetto fa effetto ad aria minchia ok può essere fastidioso può essere fastidioso come scontro sai però non è non è infattibile ah cavolo non è infattibile anzi basta solamente ok cavolo il vero problema non è manco lui è il è il bimbo col cane malti levi ora salta giusto esatto ecco qui il modo più facile per sconfiggerlo è sparare quando salta non è difficile come scontro anzi è forse più facile di quello della vecchietta no che palle ragazzini di merda vabbè ci rivediamo a un'attacca di vita ma c'è per caso uno spawner che spawna sti ragazzini sì secondo me c'è ed è dietro la testa cioè dietro la la testa quindi è per quello che non lo puoi vedere via 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 ultima attacca andata è una cavolata di scontro però fastidiosi ragazzini fastidiosi ragazzini veramente è lo stesso doppiatore di darksiders 2 questo quanto ci fa che dobbiamo scappare così spongebob e patrick fuggirono dalle grinfie dell'assassinoso denis ma solo per essere catturati dal dio abominevole sciclope e poi persero i sensi grazie grazie